Passiamo per un attimo a chi invece questo Savoia dovrà proteggerlo con le proprie mani Gabriele Roccisano, sicuramente un'avventura importante, tu già hai giocato in Serie D però sicuramente tu hai rinunciato a una piazza che ti dà tanta carica, no? Certo, allora io ho avuto molte richieste quest'anno alla Serie D scusate, però ho voluto scegliere il Savoia perché so che è una piazza importante già l'anno scorso giocando a battipaglio l'ho sentito nominare sono voluto venire qui per dare il meglio di me e per buttare il sangue per questa maglia